ognuno di noi ha desideri la nostra lista personale di sogni e aspirazioni la creazione potrebbe avere i suoi piani per noi ma i nostri desideri intimi non possono essere messi da parte facilmente possono essere stravaganti o banali ambiziosi o di poco conto possono essere inopportuni possono essere troppo personali per essere condivisi ma sono nostri e per noi sono reali sono preziosi sono urgenti e profondamente importanti è condono speciale da sad guru un mistico che incarna la saggezza e la chiarezza di una profonda realizzazione è un dono che permetta ciascuno di noi di diventare l'alchimista di se stessi che ci dà il potere di trasformare in realtà desideri a lungo sognati sad guru offre questo con l'intenzione che una volta soddisfatti questi desideri ci rivolgeremo verso l'obiettivo più grande del nostro benessere assoluto meditazione cicciakti per la pace cicciakti be the maker of your own destiny cicciakti sii l'autore del tuo destino as humans all that we have created is just a manifestation of our minds come esseri umani tutto quello che abbiamo creato è semplicemente una manifestazione della nostra mente so the most important part of creating what you want is to first manifest it within the mindscape quindi la parte più importante per creare quello che vuoi è manifestarlo prima nella tua sfera mentale ciò che è fortemente consolidato nella sfera mentale è destinato a trovare manifestazione della realtà cicciakti meditations are tools to create what you desire in the mindscape and in turn in reality le meditazioni cicciakti sono strumenti per creare nella sfera mentale ciò che desideri e di conseguenza nella realtà a way of creating and manifesting what you really care for in your life un modo per creare e manifestare ciò che più ti sta a cuore nella tua vita may you know the power of being the master of your own destiny che tu possa conoscere il potere di essere padrone del tuo stesso destino che tu possa conoscere il potere di essere padrone del tuo stesso destino mani e gambe non incrociate Appoggia le mani sulle cosce Palmi rivolti verso l'alto Ben rilassate Chiudi gli occhi Siedi comodamente Fai un respiro profondo E rilassati nell'espirazione Fai un altro respiro profondo E mentre espiri Rilassati ancora di più Fai un terzo respiro profondo Questa volta il rilassamento deve essere totale Ora Contrai i muscoli dei piedi Solo i piedi Contrai 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 Rilassa Ora contrai i polpacci Solo i polpacci Dalle caviglie alle ginocchia Contrai 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 Relax Rilassa Ora Contrai le cosce Contrai Contrai Relax Rilassa Contrai i muscoli delle anche e dell'addome Contrai 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 Rilassa Ora Contrai i muscoli del torace Delle spalle e della schiena Contrai 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 Mantieni la tensione Rilassa Rilassa Tense both your arms Contrai 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 Make a fist and create tensione Stringi pugni e crea tensione Tense Contrai Tense Contrai Relax Rilassa Tense Contrai i muscoli del collo Tense Contrai Contrai Tense Contrai Contrai Relax Rilassa Tense Tense Contrai La stagmazione Contrai Contrai Musi videos Contrai 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 Musi Rilassa Milano In feeling Condiani E mentre espiri, rilassati. Senti il rilassamento che si diffonde in tutto il corpo, dalla sommità della testa alle dita dei piedi. Senti il rilassamento che si diffonde in tutto il corpo, dalla sommità della testa alle dita dei piedi. Senti il rilassamento che si diffonde in tutto il corpo, dalla sommità della testa alle dita dei piedi. Senti il rilassamento che si diffonde in tutto il corpo, dalla sommità della testa alle dita dei piedi. Scendi sulla fronte, alla base della gola, al centro del petto, giù allo stomaco, alla base della pancia, nelle cosce, ginocchia, polpacci, caviglie, piedi, dita dei piedi. Torna su, piedi, caviglie, polpacci, cosce, base della pancia, su, ancora più su, nel torace, nella gola, faccia, fronte, sommità della testa, fronte, base della gola, centro del petto, giù allo stomaco, alla base della pancia, nelle cosce, nelle cosce, ginocchia, polpacci, caviglie, piedi, dita dei piedi. Torna su, piedi, caviglie, colpacci, cosce, base della pancia, su, ancora più su, nel torace, nella gola, faccia, fronte, sommità della testa. Torna su, fronte, base della gola, centro del petto, giù allo stomaco, alla base della pancia, Nelle cosce, nelle cosce, ginocchia, polpacci, caviglie, piedi, dita dei piedi. Torna su, piedi, caviglie, polpacci, cosce, base della pancia, su, ancora più su, nel torace, nella gola, faccia, fronte, sommità della testa. Visualizza te stesso, seduto a gambe incrociate, in riva ad un placido lago. Vedilo chiaramente. Sei seduto sulla riva di un lago placido. Vedi la superficie immobile delle acque. Una leggera foschia fluttua sulla superficie. È fresco e immacolato. Fissa semplicemente la superficie di quest'acqua, immacolata e immobile. Mentre fissi questo lago perfettamente immobile, la tua mente comincia ad adagiarsi nell'immobilità e nella freschezza di ciò che è oltre. Mentre fissi questo lago perfettamente immobile, la tua mente comincia ad adagiarsi nell'immobilità e nella freschezza di ciò che è oltre. Permetti al lago placido di riflettersi nello specchio della tua mente. Permetti al lago placido di riflettersi nello specchio della tua mente. La tua mente diventa la personificazione dell'assoluta quiete di ciò che è oltre. La tua mente diventa la personificazione dell'assoluta quiete di ciò che è oltre. La tua mente diventa la personificazione dell'assoluta quiete di ciò che è oltre. La tua mente diventa la personificazione dell'assoluta quiete di ciò che è oltre. La tua mente diventa la personificazione dell'assoluta quiete di ciò che è oltre. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.